Momenti di panico ieri ad Agrigento per via delle fiamme. Un incendio la cui natura appare dolosa si è verificato all'interno di un immobile disabitato in via da Mareta, a pochi passi dalla centralissima via Seneto. Il luogo ha interessato cumuli di immondizia ammassata da tempo nello stabile. Non è la prima volta infatti che si verifica un evento del genere. L'anzonna è da tempo interessata a fenomeni di degrado, con spazzatura di qualsiasi tipo che viene abbandonata negli immobili faticenti e disabitati. Sul posto ha lanciato l'allarme e immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che si sono occupati dello spegnimento dell'incendio. Presenti anche polizia e guardia di finanza, una donna residente nella zona ha anche accusato un lievo malore ed è stata soccorsa e medicata dagli operatori del 118 giunti sul posto. Ricordiamo che qualche settimana fa era stato il Coda Consiglia Agrigento a lanciare l'allarme di degrado, sollecitando il comune e l'aspe della città di effettuare sopralluoghi e ordinare la bonifica dei luoghi, un appello purtroppo inascoltato, visto che ancora oggi per l'ennesima volta si è verificato l'incendio.